Ciao a tutti baduffoli, oggi vi farò vedere un po' delle mie agende, perché il plan with me l'ho fatto un paio di volte, ma ultimamente non ne ho fatti più, ho semplicemente decorato le mie settimane e non ho fatto video a riguardo. Allora, prima di tutto vi farò un riassunto sulle mie agende, su quelle attuali, su quelle che uso ora, e poi vi farò vedere un po' le pagine come le ho decorate, tipo questa, per farvi magari se vi piace, se non vi piace, perché non sono un granché con il decorare la settimana, ma faccio del mio meglio. Quindi allora, cominciamo, visto che qui ho la Happy Planner, è la Happy Planner che ho preso, che vi ho fatto vedere anche nell'altro video, e qui praticamente non ho niente spazio nemmeno per girare le pagine, qui non ci ho messo ancora nulla perché è marzo, perché è appena iniziato, qui c'è la copertina, qui ci sono un po' i compleanni, le cose da ricordare, questa settimana è stata un po' vuota, qui già un po' più decente, dove ho messo praticamente questa, per esempio, zoom con una lentezza assurda, questa è una bambolina che ho creato con un programma, con un app del cellulare che si chiama... Adesso ve la faccio vedere, se riesco... Allora, eccola, si chiama Doodle Face, e ecco, praticamente, ti fa creare praticamente il personaggino, si vede un cacchio... ecco, ecco, eccola qua, è un'app, praticamente, ecco, Doodle Face, selezioni qua, fai qua, andate qui e poi potete scorrere, ci sono i capelli, tutte le acconciature, tutti i colori, così, poi dopo potete fare gli occhi, sono un sacco carini, ecco, scaricatela perché è molto carina e gratuita, alla fine non serve, ci sono anche dei giochini all'interno. Ok, ora torniamo a noi, qui ho decorato così la settimana e praticamente l'ho presa verso metà di gennaio, quindi quell'altra metà di gennaio non l'ho decorata per niente, questa è così, praticamente è tanto carina perché ha come organizzare la mattina, il pomeriggio e la sera e poi, soprattutto, nelle prime pagine fa vedere, praticamente, ti dice come si organizza, cioè come ricordarsi i compleanni, i goal del mese, le cose, insomma, più importanti che bisogna tenere a mente e servono un sacco a me perché mi scordo praticamente tutto. la copertina l'avete vista, è quella con il cuore, solo che un attimo non riesco a chiuderla perché c'è un coso qua sopra che mi blocca. la copertina è questa qui con il cuore, e aperta appunto è, così, con gli anelli, con gli anelli dorati, che erano gli anelli che mi piacevano di più e la copertina che mi piaceva di più sinceramente. ora torniamo a marzo, a marzo devo, magari faccio, farà qualche video di plan with me, magari tanto. allora, sono un po' raffreddata chiedo scusa. e questi sono i pezzetti di nastri decorativi che praticamente ho preso dal, che mi sono fatta prendere dall'idol. vediamo 3, 2, 5, ne manca uno che si trova qui. eccoli, questi, questi sono i washi che ho preso, sono i washi decotape, non lo so, però eccolo qua. sono un sacco carini e sono fatti, sembrano quasi di, sono di carta, praticamente è una carta lucida che copre molto, è molto coprente, quindi sono i migliori che finora ho usato. anche se l'unico difetto è che sono piccoli, ce ne sono, ce ne è poco sembra, sembra che ce ne sia poco rispetto, per esempio, che ne so, ad uno, a questo che ce l'ho da anni. è molto più, un po' più, molto più piccolo. questa invece è la mia agenda da borsa, è una macarone, cioè la macarone che ho preso su Aliexpress e un po' sono rimasta delusa per il fatto che comunque la qualità non era quella che mi aspettavo, però comunque io sono un po' poverella e quindi mi accontento di quello che ho. ok, allora, sempre che è scomodissimo aprire qua le cose, perché porca miseria. c'è sto coso che lo segherei. allora, questa è la prima pagina, devo fare ancora i divisori, mannaggia, quasi che dopo pranzo ci vado, perché non ne posso più. allora, questo è il divisore dell'agenda provera e propria, dove c'è scritto appunto agenda, qui ci sono appunti, questo è lo stema di Batman, che non c'entra niente, ma mi piaceva tenerlo qua. questi sono i post-it nel caso servissero, queste sono le clip che ho fatto, poi qua ci sono vari bollini da casa per la spesa, eccetera, poi qui c'è una frase che ho stampato, qui cominciano i giorni, che ho decorato appunto ogni volta con un format che ho fatto io, praticamente l'ho fatto col computer, ho fatto i refill praticamente, allora questo non mi serve più. c'era una manicure qua dentro, praticamente, dato che dovevo andare a lavoro in ospedale, non ho potuto da fare perché dovevo tenere le mani pulite, quindi vaffango in cuffia. allora, poi queste qua, ci ho attaccato gli adesivi di Luigi Mansion, poi qui c'è l'altra settimana, questa dovrebbe essere la settimana di Natale, questa è l'altra settimana, io mi diverto un sacco, cioè mi piace un sacco mettere i film che, i biglietti dei film che vado a vedere, e tipo mi dispi... vado in paranoia se magari vado a vedere il film e lo metto da parte e non lo trovo, non trovo il biglietto. allora, questo è sempre, questo è per durante Natale, che c'era anche la SRL, la Sparrow Racing League, mi ero fissata. allora, qui, qui ci sono, questo è decorato così, questi ci sono i, questi sono i personaggi di Adventure Time, se sentite qualcosa che canta in sottofondo mia madre, non ci fate dato per piacere, non c'ho voglia manco di, 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 di fermarla. allora, questi sono, questa è la settimana del cinema, qui tipo, ah no, non sono andata a vedere. qui, gli aristocatti, c'erano gli aristocatti, in tipo le visti sono bellissimi, li adoro. poi, c'è questo qui, ecco, sono andata a vedere anche Sherlock, che mi ha piaciuto un sacco come film, non so se mettermi a fare adesso video di recensioni sui film, perché per lo più li faccio sul mio blog, quindi, no, hai idea. ecco qui, era il periodo della neve, questo è così, poi dopo ovviamente comincia, questo è il divisore causato per febbraio, questo invece è il divisore causato per marzo. per oggi volevo scrivere il mese, questi sono perché li avevo stampati. allora, ecco, questo è il mese, questo è il mese attuale, cioè la settimana attuale che ora devo ancora finire di decorare, ci ho messo un po' di cosine, ci ho messo i stampini qua che ho modellato da, praticamente da degli stampini che ora non trovo. erano, ah no, ecco, questi, questi li ho stampati io, sono rettangolini di dimensioni tipo Erin Condren, e li ho ritagliati così a cuoricino e a rumbo, giusto per decorare un po'. poi, passiamo qua, dove c'è la rubrica, di solito metto i miei indirizzi, gli indirizzi per ricordarmeli, oppure i numeri di telefono allegati, e poi c'è la parte altro, in cui metto cose per appuntarmeli, ecco, cose da fare, cose da ricordare, e poi qui ho un quadernino che mi ha regalato, che mi ha regalato appunto per Natale Laura, e qui ci ho messo il mio nome, e ancora devo compilarlo, ma ce la farò? cioè, sogni nel cassetto, quindi penso, ancora devo decidere bene il da farsi su questo, su questo libriccino, perché è troppo carino e lo voglio usare per qualcosa di veramente bello. allora, questa è l'agenda che contiene, diciamo, varie cose, tra cui, appunto, ci metto i post-it, alcuni post-it, che dopo cambierò nell'altra, poi ci tengo, allora, come vedete, i divisori sono messi qua in alto, e qui ci ho messo, allora, i libri, dove segno tutti i libri che ho, e tutti i libri, tutte le serie che sto seguendo, qui ci sono molti puntini, perché praticamente, qui è la serie della Torre Nera, e me ne mancano tantissimi, sono al secondo, sto leggendo il secondo, ed è bellissimo, lo consiglio a tutti, perché è un sacco bello di Stephen King. Comunque, continuando, qui ci sono altri libri, qui ci sono altri libri, tra cui Shannara, e poi alcuni li ho segnati come se su Kindle, perché ce li ho su Kindle molti. E poi, ovviamente, ci sono, ci sono, ci sono, volevo metterci anche una parte con le recensioni, ma ancora devo compilarle, poi, qui ci sono i film, che devo ancora finire di scrivere quello di Deadpool, la, no, non avevo scritto, forse YouTube devo scrivere, qui c'è, ci sono i film che vado a vedere, e il voto complessivo che do al film, e poi la recensione la scrivo, si solito, appunto, sul, sul mio, sul mio blog, che vi consiglio di andare a vedere, vi obbligo di andare a vedere, no, scherzo, sto scherzando, ehm, questo invece è per le serie tv, e qui tipo, e qui tipo, c'è Parks and Recreation, il giorno che l'ho finita, non so più dove, come fare a vivere, erano sei, sette, sette stagioni, sette, otto, sette mi sembra, e tipo, adesso mi rispiegge un sacco, perché mi ero un sacco affezionata, ed era bellissimo come, era bellissimo come serie televisiva, consiglio anche quella, qui sono tutte le serie televisive, perché ho stampato, e poi plastificato, perché così io cancello il numeretto, serve dell'alcol, e poi lo riscrivo con la penna, con la penna, appunto, indelebile, allora, col pennarello praticamente, non so se è indelebile, ehm, poi qui c'è la cucina, ehm, questo è il divisore, con gli orzetti che fanno, come fanno cucina, e mi volano un'altra volta i coperchi, qui ci sono tutte le ricette, che mano a mano mi scrivo, mi segno, ci sono i foglietti volanti, qualche volta, e sono, e qui mi piace un sacco, perché sono magari, qui ci scrivo tutte le ricette, veloci, perché, che richiedono, diciamo, poca, poca, attenzione, diciamo, pochi ingredienti, eh, abbastanza rapidi nel fare, lì, tipo primi, primi semplici, così, cose sfiziose, oppure i panini, tutte queste cose qua, e, e basta, ecco, queste sono le mie agende, eh, fatemi sapere se vi sono piaciute, se volete vedere qualche video di, qualche video di Plan With Me, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!